Benvenuti ragazzi, oggi andremo a fare un piccolo unboxing recensione di questo carica batterie della Link Come possiamo ben vedere abbiamo all'interno il carica batterie e il cavo micro usb Questo carica batterie è davvero particolare, ho scelto questo qui perché ha un voltaggio di 15 watt su 3 ampere Come funziona? Funziona in fast charge, carica da 5 volt a 9 volt E riesce ad erogare una potenza di 3 ampere sui 5 volt Mentre a 9 volt arriva massimo a 1,8 ampere Questo carica batterie è davvero utile per caricare il nostro smartphone, tablet o ciò che vogliamo Ad una potenza davvero elevata Carica all'incirca uno smartphone da 0% a 60% in 20-25 minuti Quindi davvero ottimo Andiamo a vedere cosa c'è all'interno Come possiamo vedere abbiamo il nostro caricatore da 5 a 9 volt In automatico ovviamente decide in automatico in base al nostro dispositivo come caricarlo Come dicevo prima abbiamo un'uscita di 3 ampere a 5 volt e 1,8 ampere a 9 volt Frequenza da 50 a 60 Hz Da 100 a 240 volt È davvero bello Ha un effetto satinato Nero satinato, non so se si vede dalla telecamera Bianco, bello, semplice In più abbiamo il cavo in dotazione micro USB Che è lungo circa 1,50 m Quindi davvero utile per caricare il nostro smartphone anche a distanze davvero elevate Niente Per questa piccola recensione è tutto Vi lascio il link in descrizione Iscrivetevi al canale Lasciate un like E condividete questo video Ciao Iscrivetevi al canale